Ciao, bentrovata sul mio canale. Ciao da Stefano ovviamente che sono io. Titolo del video di oggi è lo scarto indotto del narcisista. Allora prima di iniziare ti voglio chiedersi per favore puoi mettere il like a questo video cosicché mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa ti voglio dire che se mi vuoi suggerire qualche video che dovrei fare in tema di relazioni tossiche con narcisisti patologici puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Questo argomento, lo scarto indotto del narcisista, mi è stato richiesto da una ragazza che segue il mio canale che si chiama Giussi, che ovviamente saluto con affetto, ciao Giussi, e mi chiede ma è vero che a volte i narcisisti patologici si fanno scartare? E' vero che a volte i narcisisti patologici ti mettono alle strette, ti provocano fino al punto che tu esplodi e discarti. La risposta è sì. Cosa significa scarto indotto del narcisista? Secondo l'enciclopedia indotto significa di fatto è un fenomeno provocato da fattori esterni. Un narcisista patologico, soprattutto il narcisista covert, quello coperto, quello che sembra bravo, gentile, quello che agli occhi degli altri è una brava persona, ricordiamo, i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Soprattutto il covert, stavo dicendo, quello che sembra sempre bravo, è una persona molto subdola, cova tanta rabbia interna, non vuol passare lui per il colpevole, ma vuol far sì che la vittima passi per pazza davanti agli altri. Il narcisista covert provocherà la vittima talmente tanto, ti potrebbe provocare, se sei vittima, talmente tanto forte davanti agli altri, ma non urlando, offendendo, ma andando a colpire delle cose che a te fanno male. Lo farà talmente tanto spesso che tu, stremata, prima di tutto farai una scenata davanti agli altri, e lo ovviamente ti farà terra bruciata, dicendo agli altri, guardate, pazza. Seconda cosa, ti provocherà talmente tanto che tu diventerai anche acida, risponderai spesso male. Lui, di questo tuo atteggiamento, si andrà a lamentare agli amici comuni, ai parenti, dicendo, eh, guarda, è diventata intrattabile, eh, io non so più come fare, ce la sto mettendo tutta per sanare il rapporto, per far sì che il rapporto continui, ma proprio non ci riesco. Guarda, è una cosa, è diventata una cosa insopportabile. E, ovviamente, terzo punto, quando ti avrà ben bene cotta a puntino giusto, tu la lascerai. Tu lo lascerai o la lascerai. Tu lascerai il narcisista. Ma è un fenomeno questo indotto, cioè è lui che si vuol far lasciare, ma vuol passare pulito davanti agli occhi degli altri e farà sì che tu lo lasci. Questo sortisce una duplice valenza. La prima è quella che lui potrebbe fare, potrebbe continuare a fare la vittima davanti a tutti e potrebbe continuare a passare da bravo ragazzo. La seconda è che tu ti sentirai estremamente in colpa, perché ti farà sentire in colpa, cosicché lui ha ottenuto quel che vuole, cioè la rottura della relazione. E perché la vuole roppere? O perché si è stancato, o perché vuol stare da solo con i propri amici, o perché ha trovato un'altra donna o un altro uomo, insomma un'altra partner. Però non vuole farlo lui, perché è un narcisista patologico. Non si vuol mai prendere la responsabilità. Un narcisista patologico scarica la responsabilità sugli altri, farà sì che tu impazzisca, che tu lo lasci, così che lui può tornare e vuol tornare, lui può tornare quando vuol tornare. E tu gli terrai sempre la porta aperta, perché in fondo al tuo cuore sai che comunque sei ancora legata a lui. L'hai dovuto lasciare perché sei stremata dalle sue continue provocazioni, dal suo continuo atteggiamento discriminatorio, e ovviamente tu lo lascerai. Ripeto, perché fa così? Tendenzialmente perché ho trovato un'altra partner, come ti dicevo, o perché vuol stare semplicemente a sola. Ma ricordati questa frase. Un narcisista patologico ti racconterà una storia dove lui è o la vittima o l'eroe, però mai colpevole. I narcisisti covert sono i peggiori, perché non si prenderanno mai le responsabilità, passeranno per puliti davanti agli altri, e ti faranno terra bruciata attorno. Quindi quando vedi segnali di narcisismo patologico, soprattutto cover, che sono quelli che ti mettono il broncio se quelle cose non funzionano, sono quelli che iniziano ad essere acidi quando tu non esaudisci i loro desideri, per una cosa che non gli va bene non è che te ne parla, ma fa il muro del silenzio, potrebbe stare giorni senza parlarti, ma soprattutto guardati internamente. Se tu spesso sei nervosa, se ti senti sempre in colpa per qualcosa che non sai che non hai fatto, vuol dire che hai vicino un narcisista covert. Stai attenta perché è il peggiore e bisogna uscire dalla relazione il prima possibile. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche, sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità, e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico. Perché? La conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono perché hanno relazioni con narcisisti patologici e dovrebbero essere informate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano